Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo video, oggi siamo qui, nuovo video di Brawl Stars Oggi siamo con un ospite, Alecobre08, perchè stiamo facendo tutto il mio video Invece qua siamo con il mio ospite, DADD2.0, che andremo a fare un gameplay su Brawl Stars Io ho una tasta, dopo la apriamo su Live Ti invito Io ho 24 casse, perchè come sapete, se avete visto i scorsi video, a 100 casse piccole e 10 grammi farò lo stacchettamento Io metto stecca No, stecca e nab Ma io, io, mo me le staccava bene queste Prima non le usavo, eh pur io Vabbè, stecca e forte comunque sono simili Sì, siamo E' questa E' questo nuovo suicidio Scappa La prima è andata male A me meno uno E' già, arriverò a tre suicidio e le farò uno scattimentino E poi al mio E' cento, si ma l'altro ci arriveremo Sono già a 23, lo so passati 5 giorni E' apposta, ci arrivo a passare il tempo tra due setti Cambia il dollaro Mi metto uccelli Tra un po' raga, sblocco bo Mi mancano, oddio 980 coppi e sblocco bo Vabbè tanto vai, ho cominciato Ecco chi qua rega Ok Ah Il mio canale, raga, il mio canale, il video uscirà Penso domani E calcolate adesso Il mio canale Non me lo farà Ok Un'altra scelta Hai Ma Sto sbagliando Sto sbagliando Ho capito Stavo lì tanto, mi uccideva sempre Parli te che vai lì e muori Chi è che c'ha... E' sbagliato colpo Chi è che ha 2.920 coppi E chi è che gioca da due settimane? Ma adesso ho detto... Sì, ho giocato due settimane, l'altro prima non si giocava mai. Io mi metto bibi, perché io ho bibi e lui non ce l'ha. Io che ce l'ho da due settimane è già tanto che c'ho 800 coppie. Ce l'ho tipo da tre mesi, solo che mi le facevo tutte la mia coppia le partite. Ci ho giocato 188 coppie, avrò fatto, perché non si giocava mai. Ragazzi, scrivetene nei commenti se secondo voi bibi è forse. Secondo me è abbastanza, non tanto, né poco né tanto, però abbastanza bene. Mi sono messo la scuola da solo. No, non, non ti ho avuto c'è un cellico, da un bucurio, credo. No, è setto. io ne ho fatte due ecco lì fatto uno abbiamo vinto a me manca poco arrivare a 25 una leggera differenza è che a peggio, io a peggio nuova partita a me prende pochissimo qua 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 E raga, per noi questo video, secondo me, è un po' più divertente. E io sono qui!